Ciao a tutti ragazzi, io l'ho visto 96 e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei presentarvi un servizio che, diciamo, trovo abbastanza buono, che prende il nome di Kinguin. Kinguin è un servizio di ricerca che è ben diverso dai soliti siti che trovate in giro di Key. Cosa differenzia, prima di tutto, Kinguin dagli altri? Kinguin non vende le Key, ovvero lui non è un rivenditore di Key, ma è una pagina in cui potrete trovare il pezzo più basso sul web dei rivenditori che sono affiliati a Kinguin. Infatti, per esempio, andando qui sotto, abbiamo, per esempio, Bioshock Infinity. Clicchiamo una volta su Bioshock, come vedete, e abbiamo quindi dalla offerta più bassa all'offerta più alta. Quindi, senza che noi andiamo in giro a cercare i vari, diciamo, i vari giochi che troviamo in giro a prezzi esorbitanti, possiamo sia acquistarlo a un prezzo molto, molto basso, sia trovare l'offerta più conveniente. Per esempio, invece di comprarlo, per esempio, andate su un sito e vedete che è a 34 euro, andate su Kinguin e scoprirete il prezzo più basso a cui è venduto, diciamo, il gioco. Ci sono davvero una grande varietà di giochi, ma non solo giochi nuovi, come vedete, Defiance, 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 ok, Bioshock, Skyrim, che è un po' vecchiotto, come vedete. Ci sono un bel po' di giochi, ci sono, per esempio, anche Mist of Pandaria, che non è un gioco rivenduto, per esempio, in molti negozi non online. Poi c'è anche una key di Dota, e ci sono davvero tantissime, tantissime altre roba. Per esempio, ci sono le key di Battlefield, c'è SimCity a un prezzo abbastanza basso. Ricordo che su altri siti era tipo a 53 euro, e quindi qui potete trovare il prezzo più basso. Cos'altro poi offre Kinguin? Offre sia delle recensioni tramite il canale di YouTube che trovate qui sotto, scendendo un po', come vedete. Ok? Qui trovate le varie recensioni, per adesso sono solo tre, ma pian piano aumenteranno. Ok, ragazzi, arrivo subito. Bene, ragazzi, vi dicevo, allora, ci sono queste recensioni, quindi potete anche osservare i vari giochi, e avere un commento su questi ultimi. Come ho detto, ci sono solo tre, ma pian piano aumenteranno. Oltre poi a questo canale di YouTube, ci sono anche il blog su cui discutere, e sempre delle pagine Facebook, in cui ci saranno giveaway e altra roba, e comunque anche pagine diverse. Qui avremo anche Twitter, e come vedete è certificato al 100% come website reputation, e anche Google safe browsing. Cos'altro, poi, differenza Kinguin? Se voi acquisterete un gioco, per esempio, andiamo su Tomb Raider, ok, andiamo su Tomb Raider. Se acquistate un gioco, a seconda del suo prezzo, riceverete dei Kinguin Coined, Kinguin Coined o Kinguin Gold, e questi qui saranno molto utili, perché li potrete usare per diminuire il prezzo di un gioco. Ovvero, ogni tot di Kinguin Coin potrete avere un euro di sconto, se non sbaglio, ogni mille riceverete un euro. Quindi potrete acquistare molti giochi, e quando avrete un po' di coin, li potrete scambiare per, diciamo, degli sconti sullo stesso gioco. Quindi risparmiare anche ancora di più, comprando. Quindi ragazzi, spero che possa interessarvi questo sito. Trovate sia il link durante il video, avrete un piccolo post-it sopra, e sia in descrizione. Se volete, potete anche cliccare con il mio, diciamo, indirizzo personale, e mi aiuterete anche a portare nuovi giochi sul mio canale, quindi oltre a Minecraft e anche altri giochi. Quindi ragazzi, mi raccomando, ricordate sempre di acquistare con fiducia, e scegliendo sempre il prezzo minore, e quindi di rivolgervi a Kinguin. Ciao ragazzi!